Ciao ragazzi, sono tornata con un nuovo video haul Nel weekend il tempo qui a Roma era pessimo, quindi niente male, piscine e cose varie Ma mi sono andata allo shopping e devo dire che sono molto molto soddisfatta degli acquisti fatti Perché rispetto al video precedente di haul, vi lascio qui il link E stavolta ho fatto tanti tanti acquisti con i saldi, quindi prodotti super scontati Parto subito da Kiko Da Kiko ho preso una matita labbra che ne ho sentito parlare benissimo Ed è l'Ultra Glossy Lip Pencil Vi dico che ero talmente curiosa che appena sono entrata in macchina per tornare a casa l'ho provata Ed è fantastica Ho preso il numero 611 La matita è questa qui Ed è bellissima È questo stupendo rosa È davvero bella bella E la cosa che mi ha lasciato senza parole È che appena messa sembrava davvero un rossetto idratante per quanto era morbida E l'ho messa intorno alle 5 del pomeriggio Alle 9 dopo averci mangiato Ce l'avevo ancora Ho giusto un po' a dalone Ma c'era ancora Fino alle 9 che non mangiasse Insomma Era ancora perfetta E io che tendo comunque ad avere le labbra secche Non me le ha seccate assolutamente Anzi me le ha idratate Quindi perché non l'abbia provata Dico correte da Kiko e provatela Perché viene 1 euro Anziché 5,20 euro Quindi assolutamente da avere Infatti lì c'era del colore che mi piaceva solamente questo Perché le altre erano tutte sul marroncino E infatti voglio girare altri Kiko Perché sul sito ne avevo vista una molto simile al rossetto ultimo che ho preso di Essence Il Warberries E l'ho pensato potrebbe essere comoda 1 euro insomma Quindi Vi faccio rivedere il colore Se vado in qualche altro Kiko e la trovo sicuramente la prenderò Altro acquisto fatto da Kiko È questo olio struccante Il Cleansing Light Oil Vi dico non l'ho mai provato E mi serviva proprio uno struccante perché l'ho terminato E questo viene 4,80 euro anziché 6,90 Non so fatemi sapere se l'avete provato Spero di non aver preso una sola Poi sono stata la bottella verde C'erano parecchie cosine in saldo Però diciamo Non mi prendeva nulla di che Tranne un prodotto che cercavo da tanto E tutti i bottiglia verde l'avevano esaurito Ed è questo spray anticellulite Anticell più spray concentrato attivo con escina Io su questo ho letto delle recensioni davvero buone Visto che non mi arrendo Lo voglio provare L'ho provato ieri sera per la prima volta È un olio C'è qui proprio lo spruzzino E devo dire che pur essendo un olio Si assorbe in frettissima Ed è una gran cosa Perché io odio stare lì a massaggiare creme, oli e cose varie E invece basta proprio che si spamma e si asciuga subito Senza ungere Su questo è davvero buono L'unica cosa è che ha un odore fortissimo Tant'è che c'è scritto Dov'è che l'ho letto? Un cocktail verde per contrastare i anestetismi cutani Effettivamente sa proprio di Alghe, fanghi Ha un po' l'odore di quei fanghi Sì Però vedremo Vi farò sapere E questo stava al 50% L'ho pagato 9,99 anziché 21,99 Quindi l'ho provato Tra l'altro la cassiera è stata carinissima Perché non aveva il centesimo di resto E allora mi ha dato dei campioncini Due creme viso riso venere E una crema solare Quindi è stata carina Poi nel centro commerciale dove sono stata C'è la coppia Che tra l'altro è l'unica che ho nei dintorni Volevo dei salviettini struccanti Ma erano finite E allora ho preso il contorno occhi Non ho mai provato Non ho mai usato contorno occhi Ne ho provato alcuni in campioncini Dell'erbolario Che però non avevano un inci totalmente verde Dato che questa è una zona dove Se non uso correttori con inci verde O prodotti comunque di questo genere Con inci verde Mi si vanno a formare delle bollicine sotto pelle E quindi mi ha un po' fastidio Ho preferito prenderne uno con inci totalmente verde Ne ho visto anche un altro della Sobio Che veniva su 15 euro Sono onesta per il mio primo contorno occhi Non volevo spenderci così tanto E quindi ho detto Proviamo prima con questo Vedo come mi trovo E magari il prossimo ne proverò un altro Crema contorno occhi Rivitalizzante protettivo L'ho provato anche questo ieri sera Per la prima volta È in odore Ed è una gran cosa E si assorbe in frettissima Più la consistenza di un gel Che di una crema Ma si assorbe davvero in fretta E perfetto Perché appunto come vi ho detto Odio stare lì a massaggiare i creme Poi Passiamo all'acquisto più bello che ho fatto Sono stata a Roma 2 Per chi fossi di Roma E c'era questo negozietto Che non avevo mai visto Cleo Bijou Leggo fuori tutto al 70% Io per gli accessori vado matta Ho una scrivania piena di urchini Bracciali, collane Quindi io se leggo questa cosa Vado in tilt e peggio di trucchi E sono entrata E ho fatto degli acquistoni Ah, vi mostro subito Il primo paio di orecchini presi Non stanno più sul cartoncino loro Perché li ho usati ieri Sono questi orecchini Bianchi Perché bianchi hanno proprio dei riflessi all'interno Non so se si riesce a vedere Con il contorno dorato Semplicissimi Ma che rimangono davvero Belli ed eleganti Sono leggerissimi E questi venivano 6,99 euro E li ho pagati 2,10 euro Gli affari Poi ho preso questi altri orecchini Li potrei vendere gli orecchini Per quanti ne ho Sono carinissimi Sono carinissimi Sono in soffa E rossi Perfetti per l'estate Mi piacciono tantissimo Sono davvero carinissimi E venivano 3,99 euro E li ho pagati 1,20 euro Cioè manco solo le bancarelle Li trovo E infine ho preso questo bracciale Che è quello che indosso ora Che è un bracciale dorato E beige qui A forma di catena È leggerissimo Rimane davvero carino al polso Mi piace tantissimo Ha la disura regolabile E veniva 4,99 euro E ho pagato 1,50 euro Infatti diciamo Mi sono rimasta male Che non c'erano altri colori Che mi piacevano Perché l'avrei preso anche di altri colori Perché è davvero carinissimo Poi passiamo alle cose da vestire Da Artie Ho preso una magliettina semplicissima Io sono molto esigente sul vestire Prima che trovo qualcosa che mi piace Che mi piace come sta È la fine È una maglietta semplicissima Blu Di quelle un po' larghine Tipo da mettere sui leggings Con la manica corta È davvero semplice 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 Tra l'altro non mi piacciono molto Le cose di Artie Perché trovo che abbiano Un cotone morbidissimo E non si rovina Col tempo E Questa veniva 14,90 euro E l'ho pagata A 10,50 euro Diciamo Gli acquisti più carini L'ho fatti da Camayeu Non mi veniva il nome del negozio E ho preso Una canottirina Di questo Colore Arancione fluo Che davanti È semplicissima A parte qui Per le spalline Laurate E davanti È una canottiera normale Anche questa Di quelle lunghette Da mettere sui leggings Invece La parte dietro È così Con questo Ricamo È davvero Carina Carina Leggera È proprio di un cotone Leggero Quindi fresco E questa Veniva 9,95 euro L'ho pagata 6,96 Quindi insomma Per 7 euro È una bella magliettina Quella che Però mi piace di più È quest'altra È una magliettina bianca A maniche corte Con tutti i fiocchettini Rosa e viola Anche questa A me non piacciono Le magliette Particolarmente attillate E anche questa È larghetta È lunga Volendo anche da mettere Su dei leggings Anche se è un pochino Più corta Delle altre E questa Veniva 14,95 euro E l'ho pagata 8,97 euro Questa mi piace tantissimo Tra l'altro Il cotone È morbidissimo E poi Tutta sbrilluccichina Qui Non so se si vede È davvero Carina carina Niente ragazzi Gli acquisti Sono finiti E fatemi sapere Se avete Provato qualcosina Dei prodotti Che vi ho fatto vedere prima E voglio anche sapere I vostri acquisti Quindi magari linkatemeli Al prossimo video Ciao